ciao a tutti sono tommy dell'olio e vi do il benvenuto nella mia regia di mix e vi invito se non l'avete già fatto ed ovviamente se vi fa piacere a dare un'occhiata al mio sito www.tommy dell'olio puntocom all'interno del quale fra le varie cosettine potete trovare una galleria di miei mix che ovviamente se vi fa piacere ascoltare siete i benvenuti allora anche questo mese come abbiamo fatto lo scorso vorrei parlare con voi di voce vorrei parlare di compressione parallela in una maniera diciamo multibanda nel senso vi spiego un pochettino la cosa allora una piccola premessa io tendenzialmente preferisco mixare senza compressioni di nessun tipo sul mix bass questo ovviamente mi costringe o comunque mi direziona a prendere delle scelte ovviamente diverse sui singoli strumenti sui singoli stem perché comunque un disco più o meno deve finire voi potete farlo in un milione di modi diversi però il concetto è quello che se non fate una cosa sul mix lo fate sullo stem o poi lo fate sulla singolata ci sono le cose da fare più o meno sono quelle quindi io tempo dietro avevo visto una cosa molto interessante l'avevo anche sperimentata avevo vista fare da luca pretolesi cioè l'idea di andare sostanzialmente a comprimere sul mix bass solo il mid range ecco io come tutti penso come voi vedendo magari consigli di altri professionisti provandoli facendo un pochettino la somma di tutto e insomma il modo diciamo il provare sbagliare tenere quello che ci piace il modo attraverso cui ciascuno di noi arriva al proprio workflow e quindi al proprio schema di lavoro ecco io ho trovato molto interessante prendere quell'idea di compressione che avevo visto fare da pretolesi in sostanza l'idea di andare a comprimere solo il mid range quindi non la parte bassa tendenzialmente no quello che sta sotto i 500 hertz no quello che sta su 5 600 e no quello che sta sopra i 5 6.000 ecco questa cosa secondo me è molto interessante se applicata alle voci io oggi ve lo voglio far vedere perché fa esattamente quello che a me piace se andate a sentire il mix all'interno della mia gallery vi rendete subito conto che io quello che mi piace fare quello che cerco di fare e cercare di un po come tutti spingere il più possibile di volume nei limiti della decenza ma cercare di dare un ascolto finale il più aperto e cioè meno compresso possibile questo è il mio obiettivo quindi mi piace tutto ciò che è molto clean tutto ciò che è molto rispettoso della traccia e anche in termini dinamici tutto ciò che ferma la dinamica quindi da presenza della traccia alla traccia all'interno del mix ma lo fa in maniera trasparente e secondo me andare a comprimere in questo modo in parallelo è molto interessante perché permette di non farsi sentire troppo io ovviamente non sostituisco questo compressore alla classica compressione dalla voce dico un nome a caso l'1176 che immagino sia io quello che utilizzo di più sulle voci immagino anche la maggior parte di voi ed è quello che fa io utilizzo tanti stadi di compressione sulle voci però quello che mi dà il carattere il colore che fa il lavoro principale sempre l'1176 ecco quello rimane questo che vi faccio vedere oggi la compressione parallela che vi faccio vedere oggi non è in sostituzione a ciò che normalmente si fa sulla c in vocale ma è in addizione infatti ora vado a mettere sul gruppo di tutte le voci e secondo me in maniera molto trasparente si fa quasi fatica a sentire se c'è oppure no ma all'interno del mix ferma la dinamica in modo molto interessante perché va a evitare tutto quello che c'è in alto cioè penso soprattutto alle s e non va a toccare la parte bassa che è sempre meglio secondo me che rimanga più libera quindi cento i duecento i trecento hertz rimangono più liberi quello che invece dalla presenza quindi i kHz i 2kHz i 3kHz dove abbiamo proprio la presenza della voce ecco lì noi abbiamo la traccia un pochettino più ferma e questo secondo me è molto interessante quindi io direi spostiamoci sul pro tools così vi faccio sentire e vedere quello che vi ho appena introdotto eccoci qui davanti al pro tools allora vi faccio subito vedere innanzitutto vi anticipo che la traccia vocale è la stessa dello scorso episodio è anche comodo secondo me così perché da dove ci siamo lasciati esattamente dove ci siamo lasciati ripartiamo aggiungendo il compressore quindi per chi non avesse visto lo scorso trick allora praticamente in realtà non abbiamo moltissime cose abbiamo 11 76 per livellare la dinamica abbiamo un mag e q utilizzato in maniera abbastanza brutale quindi schiarito a fine corsa sulla banda dei 40.000 ecco per quanto riguarda i dettagli di questa operazione vi rimando al trick precedente dove ho spiegato tutto abbiamo un di esser giusto per contenere gli eccessi causati dal mag quindi dalla shelf e abbiamo un semplicissimo locata quindi un chain tutto sommato abbastanza semplice questo è quello che abbiamo come penultimo plugin io e locati in questo caso l'ho messo come ultimo della catena quindi come per ultimo plugin adesso in bypass abbiamo il nostro pro c2 che è il compressore che andremo ad utilizzare in questo tutorial per fare la compressione parallela che come vi dicevo è una compressione che avviene solo su questa banda di frequenze allora praticamente che cosa succede succede che noi io direi intanto ve lo faccio sentire vi faccio sentire la traccia con tutti i plugin accesi tranne il pro c2 quindi il compressore e poi accendo il compressore così vediamo lui da solo che effetto produce senza la notte faccio strani pensieri vorrei svegliarmi meglio di ieri gettare via la sveglia e via la sveglia e gli orari deragliare binari dedicarmi a te vedete che anzi sentite che quando lo accendo mi porta la voce un pochettino più in faccia allora io utilizzo diversi stadi di in un mix completo di compressione diciamo che io sono abbastanza della scuola di utilizzare questa non è la mia aperta e chiuso parentesi questa non è la mia chain più o meno standard diciamo non è la mia c'è infinita ci sono altri plugin utilizzo altre unità di dinamica utilizzo equalizzatori dinamici utilizzo molto spesso il waves air vox quindi diciamo che io sono abbastanza della scuola di utilizzare tante piccole unità di dinamica per avere nel complesso un'azione il più trasparente possibile anzi se avete voglia se vi fa piacere vi rimando a tal proposito all'ascolto del sul mio sito tomidellolio.com il primo brano della gallery è un brano di Ed Sheeran e di Ariana Grande che io ho remixato e che più o meno fotografa diciamo il mio gusto in termini di mix vocale in termini di compressione in termini di eq in termini di livello io ovviamente questi quei questi remix io li ho fatti appositamente per poter avere mano libera perché nel momento in cui voi fate la canzone di un cliente ovviamente avete delle revisioni dettate dal suo gusto dettate dal gusto del produttore entrano in gioco un sacco di altre orecchie eccetera 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 mentre invece avevo bisogno e desiderio di fare dei remix solo miei dove poter far sentire diciamo in pratica su un lavoro finito la mia visione delle cose ecco lì se vi va avete voglia di spendere un secondo secondo me è quello che fosse più di tutti i brani che ci sono nella gallery fotografa il diciamo il suono finito della voce come piace a me quindi il più trasparente e naturale quantomeno a mio orecchio possibile che io riesco a fare ecco tornando a noi l'azione del procedure va esattamente in questa direzione nel senso che io vado a comprimere più o meno tutto quello la ciccia diciamo la parte importante quindi il kHz 2 kHz 3 kHz dove ho tutta la presenza vocale la vado a comprimere in parallelo ma contemporaneamente vado ad escludere tutto quello che sta sotto questo è 5 65 questo è a 6.000 su questo mio preset più o meno tengo sempre così e insomma diciamo sotto i 600 sopra i 6.000 non vado a comprimere perché se comprimessi sopra andrei a tirare dentro ancora un po di S che già ho levato e non mi interessa lì voglio l'aria libera comprimere sotto secondo me rimpicciolisce la voce preferisco che le armoniche più gravi rimangano un po' meno compresse quindi fuori da questa catena per quello lavoro in parallelo per quello lavoro molto con gli acudinamici sulla voce per andare a comprimere solo dove mi sembra che ci sia bisogno non dappertutto per comprimere il tutto c'è questo e va lui ritornando a noi io vado a comprimere però ripeto in parallelo infatti vado a ridare un pochettino di dry quindi in sostanza è un'azione molto trasparente nel senso che non vado a comprimere questa banda tra i 600 e i 6.000 completamente come potrei fare con un multibanda e basta ma vado a fare in parallelo mi piace l'azione di questo compressore andiamo a vedere insieme i parametri sono molto conservativi nel senso che la rescia tono al 2 l'attacco adesso qui si dice 48 sono sempre valori che finalizza l'orecchio però è un attacco diciamo che oltre i 10 millisecondi io comincio a considerarlo lungo questo è quasi 17 quindi è un attacco abbastanza lungo direi il release automatico per comodità va bene poi il fast release c'è già nell'1176 e il fast release sulle voci probabilmente vi sto dicendo una cosa che già sapete è bello perché porta la voce in faccia ma tende a tirare fuori tutto l'acidume le s le consonanti le cose fastidiose quindi secondo me è sempre meglio non avere più di un compressore se ce ne sono molti sulla chain vocale con il rilascio veloce in questo caso preferisco un auto release perché un release più veloce regolato in manuale tipo un 50 100 millisecondi del release tanto per capirci con un valore numerico a mio orecchio comincia a far diventare la voce troppo appuntita con questo invece io riesco a dargli presenza è come se la ingrossasse ma di fatto non va a toccare niente sotto la notte faccio strani pensieri la notte faccio strani pensieri più cremosa più rotonda più compatta è una cosa che a me piace molto e ripeto va nella direzione di avere un'azione trasparente anche perché mixare inteso come metto le cool compressore il ds eccetera eccetera finché ad orecchio non riesco ad ottenere il suono che più o meno in mente è molto facile mixare in maniera un po più professionale quindi il che vuol dire secondo me ovviamente seguire i vostri gusti gusti vostro cliente ma contemporaneamente tenere sotto controllo tutta una serie di valori di picco di rms di frequenza dei singoli strumenti e delle fondamentali eccetera eccetera che sono quei valori che mi dicono cosa sta succedendo all'interno del mio mix che mi danno la garanzia poi che ciò che io manderò in mastering tornerà indietro come voglio oppure no che ciò che io sto facendo suonerà come voglio io su tutti i supporti oppure no che la dinamica percepita perché poi noi mix parliamo sempre di dinamica ma in realtà la dinamica percepita perché tutti dai mix più belle mix più brutti in ambito pop finiscono sempre a schiantarsi attorno ai meno 6 meno 5 anche meno 4 e mezzo e non sto parlando di quali brutti ma anche di mastering che escono dallo stella in new york quindi succede quindi alla fine finiamo tutti alla stessa allo stesso range dinamico quello che dobbiamo fare è dare l'illusione di avere più dinamica percepita più profondità più spazialità più apertura stereo ecco benissimo tutte queste cose qui secondo me vanno tenute con un bel po di sana consapevolezza dal punto di vista artigianale che è anche il saper gestire tutte queste cose qui cioè io vado a mettere dei plug che devono essere trasparenti all'orecchio ma devono tenere sotto controllo dei valori 1 2 10 20 sparsi per tutta la sessione mi danno poi il controllo totale del livello che mi permette di avere l'ascolto che ad orecchio mi interessa avere a me o al mio cliente contemporaneamente però con i valori che io so devono essere quelli giusti che so devono essere quelli che mando in mastering per avere indietro quello che desidero ovviamente poi non c'è mai un giusto o uno sbagliato c'è un giusto secondo me e c'è uno sbagliato secondo me questo lo ripeto sempre poi ogni fonico al suo suono ogni fonico al suo modo diciamo per ottenerlo però il senso di questa operazione tornando al nostro tutorial è quello di proporvi un'azione trasparente relativamente perché quando faccio bypass si sente che però mi dà presenza ma contemporaneamente non alzando ma se possibile abbassando leggermente il livello ve lo faccio sentire ancora su una porzione un po più lunga partendo dallo spento dal bypass io adesso sto sentendo in queste cuffie e quando faccio il bypass senza bisogno di avere un grande ascolto perché sono cuffie normalissime sento proprio la differenza in termini di presenza voce più avanti voce più indietro e questo è esattamente ciò che passo dopo passo plug dopo plug si cerca di ottenere per avere la massima presenza vocale possibile quindi spero di avervi dato un input in più concludo dicendovi questa cosa ovviamente vi invito a provarlo secondo me funziona molto bene quindi essendo e poi volevo dire essendo un plug trasparente si abbina bene alla chain che già avete io adesso immagino perché non so per certo quello che voi avete come c'è in vocale ma tendenzialmente mettendo questo a fine catena dovrebbe aggiungersi abbastanza per quello che ho provato io quanto meno abbastanza bene a quasi tutto quello che avete messo prima un piccolo consiglio che secondo me la ciligina sulla torta non mettetelo sulla traccia di voce ma mettetelo sul gruppo delle tracce vocali tutte le tracce vocali vanno in un bass sul bass metto il pro c2 regolato così secondo me in quel modo tenete il massimo glue possibile fra tutta l'armonia vocale e io vi consiglio tanto di provarlo è veramente veramente efficace trasparente fa il suo senza dare fastidio e vi semplifica la vita man mano che spingete il volume verso la fine ve lo consiglio tanto io vi auguro buon mix e ci vediamo come sempre il mese prossimo ciao a tutti